Assessore, ci siamo, si parte per questo nuovo anno scolastico. È stata un'estate di lavoro per lei, per l'amministrazione comunale, di concerto con tutti i dirigenti scolastici, con gli insegnanti e con gli studenti? Sicuramente è stato un periodo molto impegnativo. Io devo ringraziare veramente con il cuore i dirigenti scolastici che tutta questa estate ci siamo sentiti per far sì che le loro scuole fossero sistemate nel migliore dei modi. I risultati pare che ce li abbiamo tutti. I lavori sono stati ultimati. Ho appena finito di fare l'ultima telefonata, come avete sentito anche voi, all'ultima preside, la quale mi ha detto che è tutto a porto. Loro erano un po' preoccupati per le scuole che sono occupate dai seggi, ma martedì pomeriggio ci sarà la sanificazione e l'igienizzazione delle scuole. Quindi da mercoledì mattina loro avranno le scuole a disposizione. Noi tutto ciò che i presidi ci hanno chiesto di fare come amministrazione comunale siamo stati pronti e abbiamo risolto qualsiasi problematica. Non ci sarà nessun problema. Abbiamo ovviamente avuto un confronto con i genitori per trovare le soluzioni migliori. Credo che alla fine il dibattito sia stato positivo per arrivare al discorso migliore per i nostri ragazzi. Perché l'obiettivo è quello, fare in modo che i nostri ragazzi possano frequentare scuole che permettano loro di crescere. Questo è un anno veramente importante. Speriamo di superarlo e di tornare alla normalità, ma per ora abbiamo ancora dei limiti, dei vincoli che dobbiamo rispettare e lo facciamo tutti quanti insieme. Un applauso sindaco ai dirigenti scolastici che si sono trovati di fronte a una situazione che non avevano mai conosciuto prima. Sì, un applauso a tutti quelli che hanno operato in questo senso, dai dirigenti scolastici agli insegnanti che hanno dato il loro contributo, agli operatori scolastici, ma anche alla struttura comunale. Perché noi dimentichiamo sempre di citare coloro che in maniera certosina e puntuale si mettono sulle carte, le mettono insieme per poi arrivare all'obiettivo finale.